salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua in compagnia sempre di lui l'apsan zino mini pro perché perché oggi faremo un altro piccolo test un test veloce giusto per spiegare come funziona adesso il precision landing dell'apsan zino mini pro perché dico adesso perché prima dell'arrivo dell'aggiornamento firmware 1.2.9 c'era sì l'opzione precision landing da attivare disattivare nell'applicazione ma usciva la scritta che al momento non era disponibile e lo sarebbe stato presto mentre adesso con l'arrivo appunto di questo ultimo aggiornamento firmware questa funzione è attivabile quindi andremo ad attivarla vi farò vedere come funziona il precision landing di appsan che ha implementato questa tipologia di precision landing già nel primo app san zino 1 è un sistema secondo me semplice se vogliamo elementare ma che funziona davvero davvero bene e fa fare un precision landing a un drone che ovviamente già è preciso perché è tipo mini 2 dal punto di vista del ritorno a casa quindi arriva molto vicino a dove è decollato quindi potrebbe sbagliare dal pad di decollo di un metro mezzo metro di centimetri cioè comunque sta molto vicino da dove è decollato e questo succede praticamente sempre come con il mini 2 però per chi ama vedere il drone atterrare sul pad di decollo adesso lo potrà vedere e con il sistema appsan ragazzi non si sbaglia un colpo lui atterra sempre sul padre quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e facciamo il test rth con il precision landing di appsan zino mini pro decolliamo siamo pronti al decollo accendiamo i motori come sapete il ritorno video è spento fino al decollo questo per risparmiare le batterie ci abbiamo sempre questo avviso per cui il ritorno video nel nostro smartphone fino al decollo sarà spento infatti adesso motori accesi ma schermo nero decolliamo e ecco che per magia appare il ritorno video questo come già spiegato è dovuto al fatto di risparmiare più batteria possibile ed è per averne di più poi in volo entriamo nelle impostazioni e andiamo ad accedere al menu dove abbiamo tutte le diciamo i sistemi di attivare e disattivare del drone e vedete che qua troviamo che altezza vogliamo impostare come rth e soprattutto adesso abbiamo la voce alla ricerca del tappetino drone che c'era già ma non era attivabile adesso possiamo andare ad attivarla ed ecco lui adesso è pronto a fare un rth di precisione quindi adesso decolliamo andiamo ad un'altezza di 70 metri ci allontaniamo un pochino che facciamo le rth perché comunque questo è solo un video per farvi capire e per spiegarvi come lui riesce ad agganciare il tappetino quando ritorna nella posizione da dove è decollato quindi quella posizione datagli dal gps ma poi che lo rende precisissimo sul tappetino landing andiamo come ho detto andiamo ad un'altezza di 70 metri circa perfetto questa poi è l'altezza che io ho impostato come rth almeno è già quell'altezza non deve salirci dopo e andiamo avanti un po giusto per dare un pochino il senso alla prova quindi mi allontano e ok siamo alla distanza di 66 metri vado ad attivare le rth quindi ritorno a casa attivato lui gira non tenta più di salire di quota perché comunque è già ad un'altezza di 70 metri che quella che io preimpostato nelle impostazioni almeno non abbiamo dovuto aspettare che salisse di quota e vediamo come adesso lui aggancerà il tappetino perfetto sta scendendo sta ritornando da dove è partito ovviamente lui già arriva molto vicino a dove è decollato comunque con il segnale gps arriva davvero molto preciso ma la precisione sul landing che viene data ragazzi adesso lo scopriremo quando arriva circa 25 metri d'altezza abbassa la fotocamera anteriore di 90 gradi e va ad inquadrare il lampad quindi questo gli permette di atterrarci sopra perché la fotocamera tiene inquadrato il landing cioè guardate questa specie di mirino che tiene inquadrato il tappetino è fantastico adesso lui sta arrivando ormai l'ha inquadrato adesso ha smesso ovviamente di inquadrarlo alzato comunque il gimbal per evitare di danneggiarlo e ragazzi perfetto c'è perfetto questo perché perché lui ragazzi con la fotocamera una volta che l'ha visualizzato l'ha visualizzato quindi lo tiene agganciato una sorta di active track se vogliamo e tiene agganciato il tappetino ovviamente per non rischiare di andare a danneggiare la fotocamera quando è a pochi metri dall'anni che quando ormai praticamente il gioco è fatto risolleva la fotocamera in posizione orizzontale almeno quel punto non si rischia di essere almeno quel punto non rischia più di danneggiarla quindi ragazzi questo era solo un piccolo video per farvi vedere come adesso è possibile con l'ultimo aggiornamento firmware 1.2.9 avere anche questa funzione di precision landing sulla abstand zino mini pro non è niente di innovativo per ampere comunque aveva introdotto addirittura primo zino quello economico quindi niente innovativo però adesso anche lui è in grado di farlo però ovviamente con un drone di queste dimensioni e di questo peso si può farlo atterrare anche sulla mano ovviamente stando sempre attenti perché comunque le eliche girano e possono farci male anche per un drone di queste piccole dimensioni però lui diciamo si può far atterrare e decollare dalla mano quindi l'importante è che arrivi dove siamo e lo si fa atterrare sulla mano poi si muove un attimo con gli stick e lo si mette nella posizione che si vuole però per chi ha paura a farlo decollare sulla mano o non si fida tutte queste cose con il landing adesso ragazzi è fantastico è fantastico questo gli permette di avere praticamente una garanzia dico del 100 per cento perché di 100 per cento probabilmente non esiste niente però una percentuale veramente alta di andare a beccare sempre il landing quindi ragazzi questo è stato un altro piccolo test riguardante l'absandino mini pro questo drone è super atteso e super chiacchierato il prossimo video sicuramente sarà il video recensione in cui vi porterò i pro e contro di questo piccolo drone che ha un potenziale incredibile non ancora tutto espresso anzi direi molto inespresso per tanti versi che però ha tanto secondo me tanto da dire quindi il prossimo video dedicato a lui sarà sicuramente per la sua recensione quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime spoiler stampe voli tantissime cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telecom offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere neanche un video un volo una recensione un test tutorial o novità ciao